Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Salve amici, noi ci siamo lasciati la scorsa volta riflettendo sulle parole di un canto mariano, nome dolcissimo Adesso dobbiamo passare a un periodo di tempo che va dopo il 1920 Perché? Perché ci sono in questo momento due sacerdoti che tra le tante loro iniziative decidono anche di scrivere un canto dove poter contemplare Maria con il Cantico dei Cantici che è un testo biblico dell'Antico Testamento E nasce così il canto dell'Aurora che all'origine avrà semplicemente il titolo Aurora ma noi oggi lo conosciamo come dell'Aurora Quindi mentre le comunità cristiane già cantavano i motivi che abbiamo ricordato nelle precedenti trasmissioni un sacerdote dall'animo molto sensibile Don Luigi Giovanni Guida 1883-1951 musicò il testo mariano di un gesuita il padre Francesco Saverio Maria Daria nato nel 1889 e morto nel 1976 e dall'incontro tra questi autori derivò la composizione Aurora Don Luigi Guida nacque a Massacuano in frazione di Vico Equense, Napoli fu consagrato sacerdote nel 1908 presso il Conservatorio di Napoli si diplomò in pianoforte, canto, violino, arpa, organo e composizione insegnò presso il seminario regionale di Posillipo e al convito puntano di Napoli dei padri gesuiti diresse opere al San Carlo di Napoli al Conservatorio dell'Aquila rifiutò la nomina a maestro della Cappella musicale della Cattedrale di New York nel 1922 la casa editrice Fratelli De Martino di Napoli pubblicò il suo primo volume di canzoni intitolato mistica canzoni alla Vergine e inni al Sacro Cuore più volte ristampato e nel 1932 diede alle stampe mistica parte seconda Mottetti negli ultimi anni della sua vita il sacerdote si ritirò a Massacuano dove la morte lo colse il 15 dicembre del 1951 è sepolto nell'antica cattedrale della Santissima Annunziata di Vico Equense padre Francesco Saverio Maria D'Aria nacque a Sant'Agnello di Sorrento, Napoli ebbe come primo insegnante suo padre maestro del paese entrò quindicenne nel noviziato della Compagnia di Gesù nel 1915 fu ordinato sacerdote dal 1919 per circa 30 anni si dedicò alle congregazioni mariane e alla direzione spirituale dei giovani insegnò nei due istituti dei padri gesuiti a Napoli l'istituto Pontano a Palazzo Cariati l'esternato era e il convitto Pontano alla Conocchia che era un internato pubblicò varie biografie partecipò alle missioni mariane che ebbero un momento centrale nella Peregrinazio Maria con altri gesuiti e con volontari laici organizzò l'assistenza spirituale e materiale a favore di molti sinistrati colpiti dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale accampati nei padiglioni superstiti dell'antica caserma dei Granili nella diroccata caserma Bianchini anch'essa parzialmente distrutta e nella scuola Alessandro Volta intervenne ancora per sostenere le colonie estive dei bambini la Domenica del Fanciullo progettò e realizzò un centro di protezione e di promozione a favore dell'infanzia e della gioventù a Sant'Agata sui due golfi Napoli chiamato Casa della Madonna i collaboratori laici erano organizzati in un vasto movimento chiamato la Crociata Mariana questa iniziativa promossa per soccorrere materialmente moralmente e spiritualmente le fasce più deboli della società aveva un proprio periodico l'ora della Madonna e insistendo sulle autorità civili i membri della Crociata riuscirono anche a far edificare abitazioni per i senza tetto e a far abbattere gli edifici fatiscenti dei Granili nel 1959 il padre Daria fondò a Sant'Agata sui due golfi l'istituto ausiliarie della Madonna ecco ho voluto sottolineare questi dati per dire che siamo davanti a due sacerdoti che hanno donato tanto alla Chiesa ora l'interazione tra don Guida e il padre Daria avvenne negli istituti dei Gesuiti dove entrambi insegnavano e il loro lavoro musicale Aurora lo abbiamo già detto noto con il titolo dell'Aurora ha una sua logica una sua pedagogia precisa l'intento di don Guida e del padre Daria è stato quello di accompagnare i fedeli in un percorso di contemplazione della persona di Maria seguendo un iter biblico un cammino biblico un percorso biblico ora per raggiungere tale obiettivo vogliono mantenere come riferimento il libro dell'Apocalisse che è dell'Antico Testamento si tratta di un testo canonico dove la donna con la D maiuscola che genera il vincitore con la V maiuscola del conflitto con il male è inserita in un disegno grandioso è un quadro biblico che rappresenta l'opera di salvezza compiuta da Dio la fedeltà della Chiesa resa fino allo spargimento del sangue quindi i martiri e la luce che proviene da chi è in comunione con Dio in tale contesto la madre di Dio partecipa alle vicende della redenzione è protetta dagli assalti del maligno e assiste al trionfo del bene ora tale collegamento con il libro dell'Apocalisse ha un fine preciso i due autori di Aurora hanno inteso ricordare ai fedeli che vivere nella Chiesa non significa rimanere immuni dalle vicende terrene da contrarietà da prove da avversità la natura umana e la libertà concessa a ogni persona si sviluppano secondo di segni che possono essere segnati anche da criticità non è Dio colpevole del male ma sono piuttosto quelle genti che rifiutano la legge dell'amore per accentuare molteplici forme di violenza e di sovraffazione allora l'esortazione finale è chiara è importante rimanere vicini al Signore e alla Madonna per ricevere quella grazia divina che consente di respingere tentazioni e lusinghe in attesa di accogliere la venuta finale del Salvatore grazie per l'ascolto e arrivederci al prossimo incontro che tratterà il canto dell'Ave Maria di Fatima Nell'Ave Maria Nell'Ave Maria tu sorgi più bella poi quella ti fai viena la bella e tra gli asti che c'è l'onizzerà come stella più bella di te che c'è che c'è che c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.